Ancora una delusione per i familiari delle 29 vittime di Rigopiano che per l'ennesima volta escono dall'ulienza preliminare a mani vuote. Infatti a causa di un calo della tensione della linea internet che non ha permesso la connessione audio-video tra l'aula principale e le altre messe a disposizione del Tribunale di Pescara per ottemperare alle normative Covid-19, si tornerà in aula il 30 ottobre alle ore 9.30. Siamo in udienza ma è come se non ci fosse udienza, ci sono interruzioni, problemi con la linea, quindi aspettiamo solamente, ma queste cose dovevano essere già risolte in passato, posso capire la prima udienza ma siamo alla terza udienza dopo il coronavirus, quindi queste problematiche non ci devono essere. Soprattutto adesso con questo coronavirus è un punto interrogativo che non so fino a quando ce lo porteremo, sperando che non richiuderà un'altra volta i tribunali e la procura. Prima della sospensione comunque gli avvocati di Ilario Lacchetta, Cristiana Valentini, Goffredo Tatozzi e Massimo Manieri hanno richiesto l'incidente probatorio sul tenente colonnello Angelozzi. Abbiamo fatto questa riflessione, noi avevamo pendente l'audizione del tenente colonnello Angelozzi ma ora ci troviamo, rispetto al momento in cui l'abbiamo chiesta, ci troviamo nella fase di udienza preliminare, in contraddittorio tra tutte le parti. Siccome gli elementi conoscitivi che possono venire fuori da questa audizione sono importanti, abbiamo ritenuto veramente doveroso chiedere che questa cosa avvenga davanti a tutti e che tutti possano partecipare. Ci sembra proprio un omaggio alla verità processuale, quello che abbiamo fatto. Poi il giudice deciderà, si tratta di un'iniziativa credo mai fatta prima. Spero che si possa apprezzare la buona volontà di mettere più materiale conoscitivo possibile a disposizione di tutti, che mi sembra essenziale. L'unico modo per arrivare alla verità è scavare sempre più a fondo in questo processo, non c'è dubbio, secondo me. Sempre gli avvocati del sindaco di Farindola hanno fatto sapere al giudice di aver avviato un'attività di investigazione difensiva sulla Dicomac di Rieti, Direzione, Comando e Controllo della Protezione Civile Nazionale. In verità, ecco, qui io le devo rispondere che ancora non lo sappiamo, perché noi abbiamo iniziato l'attività di investigazione difensiva su quel piano, ma non l'abbiamo ancora portata a termine. Quindi non appena sarà conclusa saremo lieti di comunicarvi gli esiti. Ripeto, a volte le indagini hanno una finalità che si può definire solo esplorativa, perché tu non sai con esattezza quello che cerchi, però spesso vengono fuori elementi probatori significativi. Si potrebbe capire di più perché quegli elicotteri quel giorno non sono partiti? Probabilmente sì, probabilmente sì. Si potrebbe capire se qualcosa non ha funzionato nei collegamenti di notizie e quindi staremo a vedere quali sono gli esiti. Intanto l'avvocato Romolo Reboa ha avanzato istanza di sequestro conservativo di un quinto degli stipendi percepiti dall'ex prefetto Provolo. Il funzionario della Protezione Civile Regionale Visca e Belmaggio Sabatino Mauro del Servizio Provenzione Rischi della Protezione Civile Regionale, rimasti esclusi dal precedente provvedimento di sequestro degli immobili.